Si registrano altri contagi nel comune di Castellabate, lo rende noto il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. L'ASL mi ha comunicato la presenza di altri due casi positivi, dichiara la Maiuri, già in isolamento e per i quali è già stata ricostruita la rete dei contatti. La situazione attuale nel comune di Castellabate è la seguente. Due nuovi positivi che portano il totale a 13 cittadini e 44 persone guarite. Tengo a precisare, sottolinea la Maiuri, che i dati che io comunico sono quelli ufficiali che mi vengono trasmessi dall'ASL. I dati di coloro che si sottopongono spontaneamente a tampone presso i laboratori privati mi sono invece comunicati solo in un secondo momento e pertanto potrebbe verificarsi che non vi sia una corrispondenza tra i dati da me indicati e quelli che, volontariamente, i diretti interessati comunicano sui propri profili social personali. Comunque alla fine di risolvere con celerità la situazione di preoccupazione collettiva che da alcuni giorni coinvolge la nostra comunità, abbiamo deciso di avviare nella giornata di oggi un'attività di screening con test antigenico rapido che interesserà esclusivamente tutti coloro che hanno avuto contatti diretti con le persone coinvolte e che abbiamo già provveduto ad avvisare. Mi appello alla vostra responsabilità personale, sottolinea la Maiuri, per non rendere vani tutti i sacrifici che ognuno di noi sta compiendo dall'inizio di questa emergenza sanitaria. L'avvicinarsi delle festività natalizie non può distrarci dalle regole e dalle misure di prevenzione che abbiamo il dovere di rispettare.